Il danno oltre la Beffa pianta le recinzioni sul Monte Serva per tutelare il suo greggio nelle ore notturne grazie al contributo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e il lupo si presenta prima dell'imbrunire. Quattro predazioni in dieci giorni a Belluno, nonostante il bestiame al pascolo di Diego Furlan, fosse sorvegliato da quattro cani da guardiania. Fino all'anno scorso così le tenevo e le liberavo solo di notte per il discorso che pensavo che le predazioni vengano solo di notte insomma. Invece adesso devo lasciarli liberi anche di giorno per il discorso delle predazioni che vengono verso Sena insomma e durante il giorno. L'altro giorno per esempio me le ha fatte che erano i cani liberi e c'era una nebbia che non si vedeva neanche a un metro e purtroppo l'ho trovata la mattina e era mangiata da questo lupo insomma. Per pastori e allevatori da tempo non c'è più pace, il lupo continua a rappresentare il nemico numero uno per chi è dedito alla pastorizia. I cani da guardiania, tutt'altro che docili, un pericolo per chi va a passeggiare in montagna ed è agli escursionisti che si rivolge Diego Furlan. I cani sono liberi, la gente deve stare un po' attenta insomma che quando vengono su con i cani al guinzaglio e che stanno attenti di non andare proprio vicino al greggio. La crociata antilupo portata avanti in questi anni dagli allevatori non ha trovato riscontro e i ristori ripagano solo parzialmente gli sforzi di chi è impegnato nel settore. È un grosso problema negli ultimi anni qua specialmente, è un grosso problema perché non riusciamo più a lavorare come si lavorava una volta insomma. Bisogna essere tutto sotto controllo perché è lui che ci controlla quando siamo al pascolo e così. E una volta dicevano che lavorava solo di notte invece adesso lavora anche di giorno. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so.